Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. In apertura la politica. Il candidato alla poltrona da governatore Francesco Schittulli presenta in nove punti i risultati da conseguire in caso di vittoria nei primi due anni di mandato e se fallisco dice mi dimetto. Sentiamo. Se al compimento dei due anni dal mio insediamento non avrò rispettato le promesse presenterò irrevocabilmente le mie dimissioni. Francesco Schittulli candidato alla presidenza della regione perentorio mentre firma simbolicamente il documento presentato questa mattina e in cui riassume in nove punti i primi risultati da conseguire in caso di vittoria la competizione elettorale del 31 maggio. Rinuncia all'indennità da governatore in favore della carita spuglia, abolizione del ticket da un euro sulle ricette mediche, revisione dei criteri per la loro indicizzazione in favore delle fasce più deboli e ancora abbattimento delle liste d'attesa, innalzamento al 45 per cento dei contributi per le PMI, finanziamento della social card e abbassamento dell'aliquota IRAP dall'attuale 482 al 390 per cento. L'oncologo spiega anche in che modo recupererà i costi dalla messa in vendita del patrimonio regionale non funzionale alle risorse previste nella nuova programmazione europea 2014-2020. Questa è la cura definitiva per far riprendere questa regione dopo sei anni di disastro a conduzione non vendola ma vendola PD, cioè Emiliano che dal 2007 sino ad oggi è presidente e segretario regionale di un partito. Qualcosa dovrebbe già suscitare qualche perplessità da un punto di vista etico-morale. Lasciano i gruppi consigliari insieme per Valenzano ed il gruppo misto per confluire in Forza Italia. Conferenza stampa questa mattina presso la segreteria dell'onorevole Francesco Paolo Sisto per il passaggio dei consiglieri comunali di Valenzano Giovanni Luisi e Giuseppe Spinelli. Sarà pronta a dicembre la nuova sede del Consiglio regionale pugliese di Via Gentile a Iapigia. Oggi il sopraluogo sul cantiere del presidente uscente del Consiglio regionale Onofrio in trona. L'ha seguito per noi Cristina Ferrigni. Una sfera di acciaio circondata da due palazzine a semicerchio intorno, un grande parco verde e una piazza che diventerà luogo d'incontro tra istituzioni e cittadini. Un progetto futuristico per la nuova sede del Consiglio regionale pugliese la cui opera in fase di completamento e che molto probabilmente verrà consegnata a fine dicembre. Ancora pochi mesi per la nuova casa dell'assise regionale attualmente ospitata nella palazzina di Via Capruzzi. Questa mattina il sopraluogo del presidente uscente del Consiglio regionale Onofrio in trona sul cantiere di Via Gentile. Intanto diamo dopo 45 anni una sede al Consiglio regionale. Quindi una sede dignitosa, funzionale, moderna. Una sede che si congiunge anche agli uffici adiacenti della Giunta regionale. Pertanto i cittadini pugliesi quando avranno bisogno di parlare o incontrare la regione Puglia non dovranno peregrinare per la città di Bari. Quindi una cittadella dei servizi e degli uffici regionali. L'opera realizzata dall'impresa dei Bara S.P.A.I costata 43 milioni di euro si estende su una superficie di 30.000 metri quadri in passato area militare. Due le palazzine per gli uffici e servizi. Sì, al centro, l'aula del Consiglio, non ancora visibile, a forma sferica. Abbiamo discrezioni anche sull'aula e a consigliare. Pare che sarà una grande sfera in acciaio. Un'immagine suggestiva? Il progetto ha voluto realizzare una piazza aperta. Un luogo dove i pugliesi si possono specchiare. Tutto alla portata e sotto il controllo dei cittadini. Mi pare un'opera che ha un significato importante. La casa di tutti i pugliesi è una casa aperta. Passiamo alla cronaca. Si è conclusa con un lieto fine. La triste avventura per un gruppo di turisti olandesi. In visita a Bari, derubati del loro camper, parcheggiato nei pressi della Capitaneria di Porto, si erano assentati per qualche ora per una visita turistica in città e al ritorno la mara sorpresa. Il camper non c'era più. All'interno soldi, gioielli, pc portatili, biciclette elettriche, ma soprattutto farmaci salvavita di due componenti della famiglia affetti da patologie gravi. È stato l'intervento della polizia a portare al ritrovamento del mezzo in via Bellini, zona Libertà. All'interno, per fortuna, c'erano ancora le medicine. In corso le indagini per risalire ai responsabili del furto. Un 52enne incensurato è stato denunciato dai carabinieri per riciclaggio. Durante un controllo nella sua villetta a Ceglie del Campo, l'uomo si è disfatto di due borsoni, gettandoli dalla finestra del giardino di casa. I borsoni sono però stati recuperati dai militari. All'interno c'erano circa 620 mila euro in contanti, in banconote di vario taglio. Il denaro, suddiviso in 62 mazzette protette da cellofan, è stato sequestrato. Presentato questa mattina, Puglia Days with San Nicola, il progetto che porterà il culto nicolaiano e le eccellenze pugliesi in giro per il mondo. Il servizio. Puglia Days with San Nicola a Parigi, Mosca e Belgrado, Atene e Istanbul e Cairo e Gerusalemme. È l'ambizioso progetto della Chorus, G-Studio Orchestra di Tupuglia TV e di Adi Media, volto alla internalizzazione delle eccellenze pugliesi e delle grandi potenzialità del turismo religioso. Si parte dalla via Angioina, quella che collega il capoluogo pugliese a Parigi, dal 4 al 7 dicembre, con una serie di eventi. Il 2016 sarà la volta della via bizantina, il 2017 della via ortodossa e il 2018 della via interreligiosa. Ci sono 10 chef in 10 ristoranti di Parigi che proporranno le ricette pugliesi. Ci sarà un incontro religioso tra il Vescovo di Parigi e il priore, il rettore della Basilica. Più c'è Sergio Scarcelli, un artista che lavora con i rifiuti del mare, San Nicola è un uomo di mare, e quindi produrrà quest'opera. In più, alla Defanzo o a Place de la Repubblica, dobbiamo definire, 10 box dove saranno presentate le produzioni migliori enogastronomiche della Puri. Ma i baresi potranno avere un assaggio degli eventi in programma già giovedì 28 maggio, quando alla Basilica di San Nicola si esibirà l'Orchestra Sinfonica Metropolitana della città di Bari, come ci spiega il maestro Paolo Lepore. Il 28 abbiamo questo bellissimo concerto con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, con il soprano Maria Grazia Pani, con la voce recitante di Teresa Ludovico, in un programma recitato, un programma molto interessante, molto recitato, molto meditativo. Concludiamo poi il concerto con l'intervento del Coro del Faro, che parteciperà con noi a bocca chiusa nell'area sulla quarta corda di Bach, e l'ultimo pezzo sarà un pezzo di Vangelis cantato appunto dal coro. Prima indiscrezioni sull'edizione 2015 della Cena in Bianco, l'evento Total White, giunto alla sua terza edizione. In pole position, tra le possibili location, torre a mare, tra i luoghi già visitati dagli organizzatori, Parco Perotti e Parco Due Giugno si attendono quest'anno oltre 10.000 iscritti. Garantire i diritti dei disabili gravi con normative appropriate che consentano l'assistenza medica continuata è uno degli obiettivi dell'Associazione di Volontariato Camminare oltre le nuvole, che ha intrapreso una nuova battaglia. Il servizio. Assistenza sanitaria non significa assistenza sociale. La prima comporta un supporto medico specialistico a fianco dei pazienti, la seconda un aiuto di tipo psicologico. Lo sanno bene le famiglie dei 400 pugliesi affetti da disabilità gravi che negli ultimi due anni hanno dovuto fare i conti con alcune modifiche ai regolamenti sulla riabilitazione sanitaria apportati dalla Regione Puglia. A sostenere la loro causa l'Associazione di Volontariato Camminare oltre le nuvole che oggi intraprende una nuova battaglia, l'ennesima per difendere i diritti dei pluridisabili. Stamattina è il punto della situazione in una conferenza stampa nella Scuola Media Massare di Bari con il presidente dell'Associazione Franco Lorusso. Che cosa è accaduto da qualche settimana? È stato modificato il regolamento sull'assistenza sociale, l'assistenza socioassistenziale che era una cosa diversa dall'assistenza sanitaria. Con queste modifiche si prevede la possibilità che i disabili gravi bisognosi di assistenza sanitaria siano trattati nei servizi socioassistenziali. Quindi con una grave compromissione dell'intervento che non è corrispondente ai bisogni che sono invece bisogni di carattere medico-sanitario. Quindi il nostro appello è di mantenere distinti questi settori proprio perché corrispondono a due esigenze completamente diverse. Presentata questa mattina la mise en chien premio regionale di regia teatrale il concorso organizzato da Fabiano Marti direttore artistico del Teatro di Cagno e da Anna Maria Carella presidente di FITA Puglia per trovare il miglior regista teatrale pugliese. 12 le compagnie che parteciperanno alla competizione articolate in tre serate dal 29 al 31 maggio. Ogni cast avrà 15 minuti per rappresentare ed interpretare la novella di Luigi Pirandello I galletti del bottaio e gli artisti saranno giudicati dal pubblico e da una giuria selezionata della quale faranno parte anche l'attore Gianni Ciardo e il giornalista Italo Interesse. Bari c'era per la piccola Aurora ieri sera al Green Park per il quadrangolare di Solidarietà. Barbara Cirillo Aurora una di noi e questo è il coro che Seguaci della Nord hanno cantato per tutta la sera ieri durante il quadrangolare di Solidarietà per la bimba di sei anni che ha vegliato il corpo della mamma per giorni e Aurora si è sentita parte di una famiglia coccolata dai tanti tantissimi presenti al Green Park solo per lei schierati in campo le vecchie glorie del Bari Lussi Puglia la rappresentativa Toricomici e i seguaci della Nord che si sono aggiudicati il primo posto e sono stati proprio loro i primi a consegnare nelle mani dei nonni di Aurora una somma raccolta in curva Nord 3100 euro a cui se ne aggiungeranno altri 600 parte del risarcimento frutto della causa vinta dai 32 d'Aspati di Pescara consegnato anche l'intero ricavato della serata ben custodito in una scatola insieme a giochi per Aurora che si è divertita a cambiarsi le tante maglie regalatele come quella ufficiale della FC Bari 1908 consegnata dal vicepresidente della società biancorossa Romeo Paparesta la maglietta ufficiale del Bari con dietro scritto il suo nome e mi auguro che sia per lei un ricordo bellissimo che faccia dimenticare quello meno bello stanca ma felice la piccola Aurora con il suo sorriso è stata in grado di regalarne molti a tutti i presenti persino a chi del sorriso ne ha fatto un messiere Aurora prima ci ha veramente scaldato il cuore con i suoi occhi con la sua bellezza con la sua innocenza noi abbiamo sorriso tutti veramente con la speranza nel nostro sorridente cuore che possa stamparsi perennemente il sorriso nella difficile storia delle labbra di Aurora e domani sera si potranno ancora regalare sorrisi alla piccola Aurora appuntamento alle 20.30 a Masteria Pietrasole per la cena di gala organizzata da Telebari e Federalberghi ed ora vi lascio al meteo a più tardi con l'informazione di Telebari il meteo è offerto da Civetteria Atelier e a Bari India Dante 14 previsioni per oggi nel pomeriggio al nord bel tempo con cieli quasi sereni al centro bel tempo con cieli quasi sereni al sud schiarite prevalenti seppur alternate a nubi sparse in serata al nord nubi e schiarite con possibili piovaschi al centro bel tempo con cieli sereni al sud schiarite alternate a nubi sparse previsioni per domani al mattino al nord nubi irregolari con brevi acquazioni al centro bel tempo con cieli quasi sereni al sud parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti nel pomeriggio al nord parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti al centro schiarite prevalenti seppur alternate a nubi sparse al sud nubi irregolari con acquazioni intermittenti al sud арeszenio l focused enOD l l aso Grazie a tutti.